Pena ridotta in appello dall'Ergastolo a 24 anni per Luigi Fontana, l'uomo che nel maggio del 2021 uccise la moglie con 20 coltellate al termine di una lite nella loro abitazione ad Alto Pascio. La decisione della Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Firenze è arrivata in seguito a un concordato tra la difesa di Fontana e il Procuratore Generale. La rinuncia ad appellare la sentenza di Ergastolo in cambio del riconoscimento delle attenuanti generiche con il ricalcolo della pena. Sostanzialmente nella sentenza della Corte d'Appello vengono prese in considerazione le condizioni socio-psicologiche dell'omicida, il fatto che fosse incensurato e la sua storia personale. Fontana, muratore, 54enne all'epoca dell'omicidio, uccise la moglie Carmela che aveva 50 anni al culmine di una furibonda lite con il pretesto della gelosia utilizzando due grossi coltelli da cucina.